Giovedì 10 settembre prossimo, presso la Villa Castiglione alle ore 17, un evento straordinario legato al premio speciale Montale Fuori di Casa. Un film e un regista al centro della manifestazione. Che cosa succederà? In questa occasione il premio Montale Fuori di Casa mi viene attribuito per un progetto che è in corso e in lavorazione con il MIBAC, con il Ministero delle Beni Culturali, che si chiama Spezia Girasoli e che vuole mettere in evidenza l'obiettivo addirittura più ambizioso, cioè di ottenere alla fine di un lungo percorso il patrimonio mondiale dell'umanità, dell'UNESCO, per i palazzi liberti di Spezia, che sono una ricchezza che tutti guardano distrettamente ma che sono un patrimonio ricchissimo. Il film è un film a episodi in cui gli edifici e i personaggi dell'epoca, dal 1898 fino al 1924, sono quattro episodi. Il primo è dedicato alla Contessa di Castiglione. Ci saranno coinvolti tutti i attori, quasi tutti i attori spezzini, da Giancarlo Giannini a Valeria Dobici e altri attori spezzini, tipo Matteo Taranto, Roberto Linghieri. Nell'arco della giornata, che inizia alle 5 e finisce grossomodo alle 8, sarà presentato anche, ho fatto un montaggio di, diciamo, di 40 anni di carriera di cinema, quindi facendo dei piccoli spot per quasi tutti i miei film e sarà presentato anche una cantata eseguita dagli allievi del conservatorio dove vi insegno e costruita apposta per il film, in cui le statue bellissime dei suoi palazzi liberti parlano fra di loro.